Buongiorno e buon inizio di settimana. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Terminate le vacanze natalizie, al momento abbiamo traffico intenso in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con la ripresa sia dell'attività lavorativa che dell'attività scolastica. Gli spostamenti procedono con regolarità sulla 4, come si evince dalle immagini che monitoriamo in real time all'altezza dello svinco di stesso San Giovanni. Scendiamo alla diramazione di Roma sud dove abbiamo dei flussi veicolari più intensi in entrambe le carreggiate e al momento già si registrano delle code sull'etratto capitolino dell'A24, la Roma, l'Aquila, Teramo, tra Portonaccio e tangenzialeste che poi si dirigono verso il centro della capitale. Ad ogni modo questa mattina la viabilità è compromessa dalla nebbia, in particolare sulla 1 tra Firenze e Roma e quindi l'invito è quello di essere prudenti alla guida, di ridurre la velocità da 130 km orari a 50 km orari qualora il quadro visivo sia inferiore ai 100 metri. Inizio desidero comunicarvi che sulla strada statale 233 Varesina abbiamo traffico bloccato per un incendio verificato sia all'altezza di Varese e Ganna. Ci trasferiamo al traforo del Monte Bianco perché c'è divieto di circolazione in direzione del territorio francese e dei mezzi pesanti per inquinamento prodotto da gas e discarico. Sul fronte meteo la protezione civile estende anche ad oggi l'allerta gialla in Abruzzo, Molise e gran parte della Sicilia. Previsto comunque tempo buono al nord, a parte qualche debole nevicata sui rilievi del confine dell'Alto Adige, sereno sulle restanti regioni. Da ieri è chiusa la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga per una nevicata tra Pianazzo e Monte Spluga. Neve è presente anche sulla 16, la Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela, ma anche in Sicilia sulla strada statale 117 tra Villadoro e Lomforte. Pertanto l'invito è quello di partire equipaggiati di pneumatici invernali o catene a bordo anche quando non ci sono precipitazioni nevose in atto. Grazie per l'attenzione. Da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità in collaborazione con il centro coordinamento, informazione e sicurezza stradale. L'augurio di un buon inizio di settimana. Guidate con prudenza, fate buon viaggio e la linea va ora a 1 mattina. Arrivederci.